Ben tornati con le consuete previsioni a cura di MeteoOne. Il dominio anticiclonico degli ultimi giorni sta lentamente lasciando spazio ad una bassa pressione in risalita dalle coste nordafricane. Si creeranno condizioni di maltempo, questo perché la depressione interagirà con una massa d'aria più fredda che affluisce da est. La perturbazione tenderà a stazionare sulle aree occidentali dell'Italia, determinando la persistenza del maltempo sulle regioni tirreniche e sul nord Italia. Qui, con rischio di nevicate a bassa quota, in particolar modo tra Piemonte e Liguria, mentre al sud si attiveranno venti di scirocco accompagnati da forti precipitazioni ed un aumento delle temperature. Ma andiamo adesso a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per martedì 20 dicembre. Al primo mattino nuvolosità diffusa su tutti i settori, con possibilità di nebbie sulle aree ioniche. A metà giornata prime precipitazioni raggiungeranno da ovest la Basilicata, per poi estendersi velocemente sulla Puglia centro-settentrionale. Durante il pomeriggio sera, nuclei più intensi potranno interessare con forti rovesci le aree ioniche di Puglia e di Basilicata e di Salento. Temperature, come notiamo dalla grafica, in deciso aumento rispetto ai giorni scorsi, soprattutto nei valori minimi. Soffieranno venti intensi di scirocco sin dalle prime ore del mattino, in graduale intensificazione sul Salento. I mari risulteranno molto mossi e agitati, in particolar modo lo ionio. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.